Ciao a tutti, io sono Fabia. Io ho lavorato con Patrizia nel percorso dell'anima di amante. Cosa è stato lavorare con Patrizia? È stata un'esperienza unica, unica nel suo genere, perché Patrizia ti porta dentro il mondo invisibile, chiamiamolo così, e te lo fa sentire. Te lo fa sentire sotto vari livelli, con tutti i sensi. Qui non si tratta di avere una percezione, si tratta di vedere immagini, di avere certe percezioni nel corpo, di sentire cambiamenti nel corpo, di sentire anche con l'udito. Quindi ti rende questo mondo reale. È veramente una cosa particolare. Inoltre Patrizia canalizza in un modo, direi, chirurgico, perché lei è stata la prima persona che mi ha descritta in un modo così preciso, profondo anche, ma preciso e chiaro, che mi ha fatto anche capire delle cose di me stessa, che sì, uno magari sa, ma tante volte non sono così chiare da comprendere. Lei è riuscita a fare tutto questo. E come sono cambiate le cose adesso? Adesso sono cambiate che questo mondo, che prima, non dico che uno non avesse mai avuto percezioni, non avesse mai avuto sensazioni, però questo mondo che rimane lì, lì, a volte al di fuori, a volte metti in dubbio, adesso fa parte della mia vita, molto più di prima, perché vedo immagini, ho più sensazioni, sento, mi arrivano informazioni, quindi ti cambia proprio modo di vivere e di comprendere. Tu capisci di più perché noi siamo qua. Ed è stato bellissimo lavorare con lei. Poi, Patrizia è veramente una persona piena di luce e stupenda. Ciao!